conosciute, tante facce vecchie di Lega, siamo sempre gli stessi ma non possiamo rimanere sempre gli stessi e lo dico anche a Varese, a maggior ragione a Varese perché qui da tutto è partito, partito tutto da qui e questo è un momento, non so se capita soltanto a me, ma io penso che non capita soltanto a me, questo è un momento che anche per, se volete, per reazione a tutto quello che è avvenuto, se come l'ha percepita la gente, la gente è normale, c'è un sacco di gente che nella Lega non si è mai impegnata, che magari ci ha votato e magari non ci ha neanche votato, che in questo momento ha deciso che la misura è colma ed è il momento di in qualche modo scendere in campo e dare una mano per consigliere di cambiare le cose. E ora noi non possiamo rimanere chiusi tra di noi pensando che in qualche modo bastiamo noi, che non dobbiamo, no, dobbiamo anche sfidare, diciamo così, la possibilità che ci arrivi qualcuno magari più bravo di noi, che possa portare energia nuova, che possa portare idee nuove, che possa aiutarci in questa battaglia che è una battaglia che noi facciamo a mani nude nel circolo di bizzozzo contro chi comanda i giornali, comanda i telegiornali e decide come va il mondo.